Siamo alla fermata della Parigi-Dakar. Ringraziamo gli sponsor, l'amministrazione comunale del sindaco Gian Guido D'Alberto e chi gestisce il trasporto pubblico urbano. Questa non è la Parigi-Dakar, non è un'area di cantiere, è il capolinea del 5, 5. Sapete civilmente come devono scendere le signore che prendono questo busto per andare a fare la spesa, i ragazzi che vanno a scuola come devono arrivare a casa, come tornano a casa. Immaginate quest'area che Simone vi sta facendo vedere di notte, immaginate durante la pioggia, guardate adesso che la neve si sta sciogliendo, fango ovviamente, freddo perché non c'è un riparo, non c'è una pensilina, non c'è una panchina e si paga il biglietto come in centro, come a Collaterrato, come a Colleparco, come a Villa Mosca e chi usufruisce di questo servizio, che dovrebbe essere la civiltà di una città, addirittura capoluogo di provincia, viene lasciato qui. Guardate, facciamoci un giro, dai Simone, Simone hai preso gli stivali, quelli da pescatori, Simone, quelli alti. Guardate, adesso passo di qua, scusa, ma c'è l'albero. Guardate che bella pozzangra, Simone, no, 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 guardiamo, 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 peschiamo, Simone, peschiamo, guardiamo, facciamo il ghirigoro, guardate il ghirigoro, eh? Il ghirigoro con l'ancio del sasso. E poi Simone adesso si gira, non mi inquadrare, Simone lascia perdere, che oggi ho pure le rughe, le doppie borse, senza saldi ovviamente. Guardate, questo lo spettate, vede la mia mano? Simone inquadra la mia mano, io indico col dito, Simone guarda. Lì si fermano i ragazzi e lì c'è il record della pozza. Andiamo, andiamo a far vedere il lago, il laghetto del castello. Questo è il nuovo laghetto del castello. Invito anche l'amministrazione, che sono molto bravi, no, hanno fatto il presepi vivente. Ecco, allora invitiamo l'amministrazione comunale di Teramo e chi gestisce il trasporto pubblico urbano venire a pescare qui. Qui scendono i ragazzi, qui scendono le persone che vanno al quartiere castello. Eccolo qui. Dalla Dakar, Simone e Giancarlo, linea allo studio. Dalla Dakar, Simone e Giancarlo, linea allo studio.